buongiorno allora ormai buonasera oggi è il 2 ed è giovedì è iniziato il mio primo giorno di tirocinio e niente in malattie infettive io avevo un po paura un po dell'ambiente un po di tutto perché avevo sentito pareri abbastanza discordanti e devo dire che come prima impressione mi è piaciuto tantissimo quindi sono anche contenta e invogliata anche a studiare a fare mi hanno fatto una presentazione proprio bella bella non me l'aspettavo cioè mi aspettavo proprio peggio sinceramente invece no invece no sono veramente contentissima domani appunto ho giornata che significa avere fare un po praticamente il turno in ambulatorio però è bello tosto c'è è bello impegnativo però non lo so la vedo bene poi magari settimana prossima mi vedrete piangente però è strano perché questa sensazione qui non la sentivo dall'anno scorso vi dico la verità sono tornata a casa che appunto sono stata su da marco che appunto c'erano anche i suoi genitori quindi sono stati un po insieme insomma purtroppo questi sono i giorni perché lui sta lavorando oggi era di riposo e dire la verità io ho i turni che ho e quindi vabbè volevo farvi vedere dei pacchetti che mi sono arrivati questo qui mi sa che è il pacchetti dom che è appunto quel sito tipo simile aliexpress in cui io compro e vi dico che la roba a me è sempre arrivata ho sempre ordinato i miei è sempre arrivata però questo non è mio ma penso sia di mia madre sì infatti ed è praticamente uno di quei cosi che anche io ho dietro al pc che noi cioè io ho sempre pagato e sì dietro al pc dietro al cellulare gli ho sempre pagati un euro questi cosi e sono bellissimi perché ti permette di tenere il telefono soprattutto per me che ho avendo l'xr che è gigante ti permette di tenerlo in mano per bene lo metto dietro la cover sta lì tranquillo poi altro pacco invece qui di pixie come potete vedere è sempre lui è bellissimo perché torno a casa nonostante si è stanca ricevo sempre i pacchi e questa è una cosa che... wow oh sì buvo santissimo allora questo è il pacchetto in questione con tanto di biglietto wow bellissimo vabbè loro sono sempre strasfiziosi allora vediamo diciamo che ci sono prodotti che io la maggior parte li conosco già più o meno a dire la verità questo no questo non l'ho mai questo è un gel io non l'ho mai provato quindi sono molto curiosa io adesso sto usando il loro il loro detergente e mi trovo benissimo perché è un detergente veramente come si dice delicato ecco sulla pelle ho iniziato a smettere di detergermi il viso con tipo il sapone allo zolfo piuttosto che i saponi anche solamente liquidi a base di zolfo perché mi seccano tantissimo la pelle è vero che aiutano magari i brufoli eccetera però sono molto aggressivi e niente questo qui appunto sarà un cleansing gel quindi vedremo insomma vi farò sapere come sarà poi c'è questo che è loro uno dei loro prodotti must have che ammetto che a me non è piaciuto tantissimo mi piace di più quello a base di rose il glow tonic questo è veramente un loro must have e mi raccomando non mettetelo sugli occhi perché brucia questo è il siero glow tonic che penso di sì questo qui lo conosco già perché ne ho già uno e niente dovrei iniziare a fare anche un giveaway prima o poi ma penso che sia lo stesso non vorrei dire una cagata però insomma siero questo boh chissà che cos'è con l'aloe vera ah moisturizer è una crema praticamente giusto sì 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 per sapere le pH della pelle wow figo ottimo e poi c'è questo che è assolutamente questo è allora travel friendly solid moisturizer use on face lips and body and hair oh my goodness figata bellissimo no vabbè questo lo devo aprire lo voglio troppo provare buongiorno secondo giorno sono stanchissimo cioè non mi svegliavo così presto da non mi ricordo nemmeno più quando quindi vabbè scusatemi ovviamente questa solita inquadratura ma pessima di prima mattina l'ultima cosa che voglio fare è tenere tre piedi videocamera a tre quindi ci accontentiamo di questo eccomi qua buondì allora infatti forse così è un po' meglio diciamo purtroppo devo fare una manovra bruttissima perché ho parcheggiato in un posto veramente bruttino del sole ma tecnicamente davano pioggia io mi sono messa sto trench per la pioggia ma cioè vabbè faccio prima mettermi il blazer e basta eccomi tornata allora sono stata in ambulatorio appunto stamattina e sto tornando adesso a milano perché vado praticamente stasera su da marco a mangiare però stamattina cioè oggi pomeriggio ho deciso se voglio studiare perché altrimenti è veramente rimango troppo indietro comunque mamma mia cioè sono arrivata a milano e c'è una pioggia che cioè non si vede proprio niente solo che cioè veramente non si vede niente mamma mia pazzesca sta cosa e tra l'altro c'è sto scrocio è uscito adesso con tanto di suoni lampi eccetera eccetera vabbè detto ciò aspettate che fatemi prendere il semaforo e niente detto ciò stamattina in laboratorio in ambulatorio è stato un po' così a dire la verità abbiamo fatto c'erano i prelievi da fare e sempre il reparto di malattie infettive nulla di che poi più che altro che sono capitata in un giorno abbastanza sfigato che era venerdì e che quindi c'era poco veramente sia da fare che da vedere purtroppo non ho nemmeno potuto vedere la visita perché c'erano già troppi studenti eravamo già in troppi e quindi boh questo e e mamma mia ma qua si sta lagando tutto non ci posso credere cioè davvero non ci posso credere e niente adesso invece torno a casa che così studio e ho deciso che vi filmo due video quindi così almeno monto anche questo vi dico la verità oggi cioè come primi due giorni non ho visto nulla di che se non che davvero cioè ho fatto un giorno e poi un'altra giornata in ambulatorio quindi veramente non visto niente invece la mia compagna di tirocini oggi aveva turno due infatti ci siamo viste al cambio e vedrò settimana prossima ecco questo weekend dovrò studiare perciò insomma tra relativamente studio si vedo Marco se riusciamo a pescarci e e basta quindi mamma c'è uno struscione che non potete capire cioè se facessi vedere adesso quello che c'è un caldino veramente e tra l'altro c'è da genio del male ho lasciato l'ombrello dietro nel baule quindi questi cavoli come faccio boh non lo so però vabbè faccio ho guidato anche con peggio a dir la verità e niente quindi diciamo che fondamentalmente questo è una specie di mi riassunto di solito appunto nelle malattie infestive le persone che aspettano cioè no le persone io stessa in primis quando avevo scoperto di essere nel tirocino di malattie infestive ho detto oh mio dio adesso saranno tutti HIV oh mio dio mio dio mio dio invece vi dico la verità cioè non è così per niente anche proprio di più mi impatto anzi quindi molto interessante il reparto vedi tantissime cose fai veramente tantissime cose cioè non ti fermi un attimo ed è veramente bello cioè è bello perché appunto ripeto vedi vedi eh insomma ma non ho capito questo doveva cosa doveva fare della sua vita parcheggiare non parcheggiare vabbè scusatemi eh ma mamma mia e niente e niente quindi sostanzialmente diciamo che i primi due giorni malattie infettive è stato così nulla di che vabbè vabbè ragazzuole detto questo cerco di tornare viva a casa e mangiare ho mangiato ho mangiato solamente due panini però non ho tanta fame a dire la verità prima sto salendo un po' l'antia per gli esami niente ragazzuoli io sono bloccata un attimo in macchina perché mamma mia che faccia lucida che ho ehm sono appunto dicevo bloccata in macchina perché sto diluviando e ho l'ombrallo dentro il baule quindi cioè non so bene come fare o mi faccio la scrociata o rispetto un attimo pazzesca sta cosa veramente pazzesca c'è sotto casa e tutto è lagato boh vabbè comunque volevo concludere un po' il vlog adesso ho tempo di salire su e vi volevo anche dire che appunto cercherò di essere un poco più presente insomma di cioè farò un po' più di spero di riuscire a fare un po' più di video adesso che ai weekend delivery ho queste due settimane libere quindi magari per i video di maggio ce la possiamo cavare insomma posso mettervi almeno un video a settimana insomma e e niente insomma ecco questo quanto fa caldissimo qua dentro che adesso sto ibernando sto collassando fuori un po' e cos'altro niente spero che nonostante questi video siano un po' così io un po' li faccio anche soprattutto per tenermi compagnia e se poi è caduto tutto però spero che smetta di piovere perché veramente cioè non c'ho voglia di uscire così perché poi mi bagno tutto paura di prendermi un accidente già mi sento irra spinning goal avete presente e niente quindi ci vediamo sicuramente al prossimo vlog e ecco 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 c'è